Domenica amara per il Varese che spreca tanto e viene punito da una fezzanese veloce e concreta. I biancorossi giocano mezz'ora in inferiorità numerica per l'espulsione di Pisano appena entrato in campo. Rigore sbagliato dagli ospiti con l'ex cantatore che colpisce il palo. La scuola di Cotta fatica a impostare e incassa un gol incredibile poco prima del riposo. La punizione di Bruccini da 40 metri beffa Ferrari al 45esimo. Nella ripresa il Varese attacca con generosità e senza lucidità, annullato il gol del pari per fallo di Bernacci sul portiere. Ci prova anche Zazzi ma colpisce il palo. Dal sedicesimo i biancorossi si trovano in dieci e per la rubida fezzanese non ci sono grossi problemi nel conservare il vantaggio.